E' un settore ancora alle prese con difficoltà importanti quello dell'imprenditoria artigiana nell'Aretino. E' infatti un quadro a tinte chiaroscure quello che emerge sulla base delle informazioni messe a disposizione dal registro delle imprese. Benché nel secondo trimestre il bilancio tra iscrizioni e cancellazioni abbia presentato un saldo positivo di 20 imprese, il confronto con gli anni precedenti continua a mostrare un ricorrente segno negativo. L'andamento complessivo del sistema delle imprese artigiane, ha sottolineato Andrea Sereni, presidente della Camera di Commercio di Arezzo, continua ad essere pesantemente condizionato dalle ricorrenti flessioni evidenziate dai due settori di maggior peso, meno 2,6% nelle costruzioni e meno 1,2% del manufatturiero. Alle flessioni dei due settori principali si affiancano anche quella del commercio, meno 0,6% e dei trasporti, meno 2,3%. Fortunatamente ci sono anche specializzazioni che mostrano dei segnali di risveglio. Si tratta delle attività di servizi, più 0,2%, servizi alle imprese, più 4,7%, dell'agricoltura, più 1,6% e delle attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento, con un più 4,8%. Tra le imprese artigiane, commenta il segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo, il dottor Giuseppe Salvini, si notano segnali di un processo di adeguamento societario verso forme più strutturate e meglio corrispondenti alle nuove sfide dei mercati. Sono infatti in crescita le società di capitale con un più 6,5%, mentre tutte le altre sono in flessione più o meno marcata. A livello territoriale, le imprese artigiane sono localizzate in prevalenza nell'area retina, in cui hanno sede il 39,2% delle imprese totali ed in Valdarno con il 26,8%. L'intensità della contrazione, invece diversa da territorio a territorio, solo l'area retina, presenta una flessione inferiore alla media provinciale, meno 0,8%. Tutti gli altri compensori sono invece al di sopra.